Scusa è la panciera. Silenzio tutti, grazie. Silenzio tutti. Ultime raccomandazioni. Chi regge il motorino? E se da quella fortissima che finisce l'ultima raccomandazione. Sì, quelli che sono più vicini eventualmente alla corsia di uscita possono utilizzare la corsia di uscita ma molto velocemente. Ok? Queste sono le ultime raccomandazioni. Alla bandiera tricolore. Vi raccomando solo di non fare viasi in ultimi primi. C'è traffico, siete tanti. E il bello di questa gara è che nonostante duri tre ore, hai sempre o qualcuno che ti vuole soppressare. Per cui le tre ore facciamo velocemente. Ma tutto nella correttezza perché fare il gas per rovinare la giornata a voi ma soprattutto a un'altra è una cosa che elimina per sempre i datamenti. La sicurezza, siamo per divertirci, fare le asinate dei cairoli di turno. Qua è l'ultima festa per divertirci e soprattutto per non rovinarla agli anni. Qua è l'ultima festa, è l'ultima festa, è l'ultima festa, è l'ultima festa. Allora io direi che fino lì, fino a qui, voi uscite da questa parte, tu esci di là. Vai l'ultima festa, è l'ultima festa, è l'ultima festa, è l'ultima festa. Asculo! Asculo! Non dici che troppo passa quella penale di casa? Asculo! Ma da dove cazzo stai? Mi mani a vedere via ma sono contro sole il mio caro, dai! Guarda lo sparo! Anzi, se spacchetta... Forza e coraggio ragazzi, lo giudice sei due metri più avanti! Bastardo sono grasso! Allora! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.